La meccanotecnica Umbra è stata fondata nel 1966 e sin da allora si è sempre occupata della produzione di tenute meccaniche frontali per pompe idrauliche, inizialmente per il mercato automobilistico, producendo tenute per la pompa di circolazione dell'impianto di raffreddamento ed in seguito per applicazioni elettrodomestiche industriali. Grazie alla notevole esperienza acquisita e alle capacità tecniche raggiunte, il servizio ricerca e sviluppo svolge costanti attività sui materiali delle piste di scivolo. Questi materiali all'avanguardia sul mercato vengono prodotti internamente e costituiscono l'elemento di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Inoltre la meccanotecnica ha una notevole capacità di progettazione e sperimentazione avanzata, avvalendosi anche delle esperienze acquisite negli anni sulla fluidodinamica del sistema pompa. I reparti produttivi dispongono oggi di linee di produzione e di controllo altamente automatizzate. La meccanotecnica Umbra ha utilizzato come leva di sviluppo l'internazionalizzazione e la presenza nei mercati con il più alto potenziale di crescita, con sedi produttive in Svezia, Brasile, Cina, India e in Nord America.